Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video in cui ho un annuncio molto importante da farvi Ieri Pangu Team ha rilasciato il suo nuovo jailbreak per iOS 9.3.3, 9.3.2, 9.3.1, 9.3, 9.2.1 e 9.2 Questo è finalmente un jailbreak stabile e europeo tra virgolette visto che è tutto in lingua inglese Ho deciso di soffermarmi su tutti i dettagli possibili e immaginabili in questo video proprio perché questa è la guida finale La guida a cui tutti voi dovrete fare riferimento per eseguire questo jailbreak Quindi farò un sacco di premesse in modo da chiarire le idee a tutti Dunque innanzitutto questo nuovo jailbreak è possibile eseguirlo su Windows, Mac e anche Linux Su Linux però non ve lo consiglio visto che è molto più complesso e potrebbero esserci dei problemi legati ai drivers In questo video vediamo come eseguirlo sia su Mac che su Windows visto che la procedura in questo caso è identica Qualche giorno fa avevo pubblicato una guida per eseguire questo jailbreak direttamente da Safari Quindi dal dispositivo senza l'ausilio di alcun computer Apple purtroppo ha bloccato quel metodo ed è per questo che adesso non si può più fare quindi dimenticatevelo Non solo, tutti quelli che lo hanno fatto in precedenza direttamente dal dispositivo seguendo quel metodo Ora potrebbero riscontrare dei problemi e per evitarli devono eseguire questo jailbreak di Pangu Sopra quello che hanno già Continuate a guardare questo video e capirete come fare Detto questo, questo nuovo jailbreak è compatibile con tutti i dispositivi a 64 bit Quindi iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air 1, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2 e iPod Touch di sesta generazione Hanno anche risolto il problema che faceva fallire il jailbreak sull'iPod Touch 6 e sull'iPad Pro Ora potrete farlo tranquillamente Non si sa se questo jailbreak uscirà anche per i dispositivi a 32 bit Quindi iPhone 5C, iPhone 5, iPad 4, 3, 2, iPad Mini 1 o iPod Touch 5 Per adesso questi dispositivi non sono supportati Se in futuro dovesse uscire una patch anche per loro sicuramente farò un video nuovo sul canale Quindi iscrivetevi per non perdervelo Altra premessa, questo jailbreak è semi-tethered, non è untethered Ciò significa che se riavviate il dispositivo, Cydia assieme a tutti i tweak che avete installato Smetteranno di funzionare Fino a quando non riattiverete il jailbreak tramite una procedura sul dispositivo che vedremo alla fine del video Ok, ora molti di voi si staranno chiedendo Ma cosa cambia tra il jailbreak di PP Ghost, quello cinese che vi ho mostrato in qualche video fa E quello di oggi Beh, innanzitutto questo jailbreak ora è tutto in inglese, quindi è più comprensibile Poi ci sarà un supporto maggiore e aggiornamenti più frequenti E soprattutto ragazzi la procedura è molto più stabile, molto più veloce e molto più sicura di prima Quindi ripeto, anche per chi ha già fatto il jailbreak con il tool cinese Consiglio di convertirlo in quello di Pangu Ripeto, tra poco vediamo come fare Poi volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta da tantissime persone In molti casi quando avete tentato di fare il jailbreak tramite il tool cinese È capitato che vi avesse chiesto il vostro Apple ID con tanto di password Questo è perché questo jailbreak funziona con un'applicazione che viene eseguita direttamente sul dispositivo E Pangu usa il nostro ID per richiedere a Apple la firma digitale che poi consente a un'applicazione di terze parti Quindi non proveniente da App Store di essere eseguita Quindi i nostri dati vengono inviati solamente ad Apple Non vi spaventate, lo richiederà anche il programma di oggi Quindi se avete un dispositivo pulito senza jailbreak continuate a seguire il video Se invece avete il jailbreak già fatto con il tool cinese Per convertirlo in questo jailbreak basterà semplicemente cancellare l'applicazione cinese DPP che avete installato Quella che usate ogni volta per riattivare il jailbreak E rieseguire da zero questo qui È perfettamente compatibile, potete eseguirlo sopra il primo senza fare un ripristino In questo modo non perderete nessun dato e neanche i dati di Cydia Semplicemente verrà convertito in quello di Pangu Detto questo ho parlato sicuramente troppo Non perdiamo tempo e vediamo come eseguire il jailbreak In questo caso su un iPod Touch di sesta generazione, il mio Che andando in impostazioni, generali, info Vedete che esegue iOS 9.3.3 Innanzitutto vediamo le impostazioni preliminari da settare prima di fare il jailbreak Affinché la procedura volga al termine La prima cosa da fare è andare in impostazioni, generali, blocco automatico E impostarlo su My Questo è molto importante Dopodiché torniamo indietro e richiamoci nella sezione Touch ID e codice Oppure soltanto codice se avete un iPod Inserite il blocco con codice che avete impostato e dovete disabilitarlo Quindi se avete una password alla schermata di blocco Premete su Disabilita codice, lo reinserite e lo togliete Dopo potrete riattivare tutte le password che volete Ma durante il jailbreak la lock screen deve essere libera Senza alcun tipo di protezione Perfetto, ultimo accorgimento Dovete assicurarvi di essere collegati a una rete wifi Oppure ai dati cellulare Insomma dovete essere connessi a internet Fatto questo collegate il vostro dispositivo al computer Mediante il cavo Meglio se utilizzate quello ufficiale di Apple E meglio se lo collegate a una porta USB 2.0 Direttamente al computer Non utilizzate hub, USB o duplicatori di terze parti Io l'ho collegato al mio PC Windows E vediamo subito tutto l'occorrente Che sarà questo file IPA di cui vi parlavo prima E iTunes Queste sono letteralmente le due cose che ci servono L'IPA ve la potete scaricare da questo sito Che è il sito ufficiale di Pangu Basterà premere su questo grande bottone rosso download Se non vedete download ma vedete una scritta coming soon Per risolvere basterà raggiungere la stessa pagina dalla navigazione privata Quindi tutti i browser ce l'hanno Io passo dalla navigazione in incognito di Chrome Digito il sito e come vedete verrà ricaricato Ma fortunatamente nel mio caso l'ho trovato anche nel sito normale Quindi una volta premuto su questo bottone rosso Venite riportati a questa guida scritta Che non vi servirà perché c'è già la mia E premendo su questa scritta download in blu Scaricherete l'IPA Ultima cosa che vi serve è Cydia Impactor Un programma sia per Windows che per Mac che per Linux Che potete scaricare Qui ci sono tutti i link di download E non lasciatevi ingannare Non è il Cydia Impactor che trovate su Cydia Per l'appunto è un programma completamente diverso Che non c'entra niente anche se ha lo stesso nome La stessa icona Quindi scaricate anche il suo pacchetto zip Su Mac sarà un DMG Su Windows un archivio compresso Perfetto una volta finito il download Su Windows lo apriamo e vediamo che ci sono tutti questi file Li dobbiamo estrarre tutti nella medesima cartella Quindi io vi consiglio appunto di creare una nuova cartella Che in questo caso io chiamo Impactor Ok una volta creata estraete tutto il contenuto al suo interno Mentre su Mac basterà fare doppio click sul DMG Ed estrarre l'unica applicazione che ci trovate all'interno E infine vi servirà l'ultima versione di iTunes installata Non c'è più il bug che richiedeva una versione vecchia L'ultima versione va benissimo La dovete avere installata sul computer Ora vediamo effettivamente come eseguire questo jailbreak Apriamo CD Impactor che sarà questo qui E' molto importante su Windows Non dovete aprirlo come un amministratore Dovete farlo partire con un semplice doppio click Non come amministratore mi raccomando Su Mac invece per aprirlo dovete fare tasto destro Sull'applicazione e selezionare apri Oppure se non vi funziona il tasto destro Dovete tenere premuto il tasto control della tastiera Cliccare con il tasto sinistro sull'applicazione E selezionare apri Ma ritorniamo su Windows Come vedete l'interfaccia del programma è molto semplice Su questa prima list box Assicuriamoci che sia selezionato il nostro dispositivo Nel mio caso iPod Touch di Andrea è giusto Vediamo che se prendiamo l'IPA E la trasciniamo all'interno del programma Ci appare questo avviso E appena premiamo su OK Ecco che ci chiede il login con il nostro ID Apple Quindi inseriamolo Inseriamo la mail dell'ID Apple Premiamo su OK E ora inseriamo anche la password Ripeto Siete al sicuro questi dati vengono inviati solamente ad Apple Premiamo OK E attendiamo che il programma al computer Faccia tutto da solo in pochissimi secondi Perfetto Una volta finito Vedete che apparirà questa nuova applicazione di Pangu installata sul dispositivo Ora col computer abbiamo finito Possiamo spegnerlo E dal dispositivo dobbiamo andare in impostazioni Generali Scorrere verso il basso Finché non troviamo la voce gestione dispositivo In alcuni casi anziché gestione dispositivo si chiamerà profili Ma è la stessa cosa La aprite e troverete un certificato con la vostra email E lo autorizzate Ok fatto ciò potete aprire l'applicazione di Pangu appena installata E se ci chiede di inviarci notifiche dobbiamo assolutamente consentire Quindi facciamo OK E basterà premere Start per cominciare il jailbreak Però è estremamente consigliato prima di premere Start Aspettare una ventina di secondi Questo perché l'applicazione deve configurare alcune risorse interne Quindi una volta trascorsi questi 20 secondi Premete su Start E ci viene chiesto di bloccare il dispositivo Facciamolo Lo blocchiamo con il tasto Power E ora non tocchiamo più niente Fino a che a un certo punto ci arriva questa notifica di archivio quasi pieno Che in realtà è una notifica fittizia Non vi preoccupate E dopo pochi secondi questa notifica di Pangu Che ci dice che il jailbreak ha avuto successo A questo punto possiamo scorrere sulla notifica di Pangu Per riaprire l'applicazione E in questo istante starà installando Sidia Quindi noi non tocchiamo niente E aspettiamo che il dispositivo Eccolo qui Faccia un respring Vedete tutto molto molto veloce E adesso se lo sblocchiamo troviamo Sidia appena installato Quindi lo apriamo Eccoci qui E l'ultima cosa da fare sarà andare nella sezione sorgenti E lasciare che tutte le repo si carichino da sole Quindi deve scomparire questo tondino rosso in basso Ve ne accorgerete perché una volta finito Apparirà il ricaricamento dati in corso Ora Sidia è piena di pacchetti E pronta per essere usata Ve lo voglio dimostrare installandone uno Proviamo a installare il classico Cylinder Che è un tweak Che per chi non lo sapesse Aggiunge delle animazioni Quando cambiamo pagina Perfetto Una volta installato Facciamo un riavvio della Springboard E vedete che il tweak funziona alla perfezione Infatti le pagine hanno questa nuova animazione Vi ricordate all'inizio Che vi avevo detto che spegnendo il dispositivo Il gelbrack si sarebbe disattivato Bene proviamo a farlo Io adesso spengo il mio iPod E lo riaccendo Faccio proprio un riavvio completo Vedete che una volta fatto il riavvio Non solo Sidia non funziona più Non si apre Crascia Ma in più Cylinder è stato disattivato Ripeto questo succederà Ogni volta che accendete il dispositivo In seguito a uno spegnimento Quindi ora vediamo come riattivare il gelbrack In seguito a uno spegnimento È molto semplice Basterà aprire l'applicazione di Pangu E qui è veramente fondamentale aspettare 20 secondi Prima di fare qualsiasi cosa Quindi aspettate 20 secondi senza toccare niente E dopo premete il bottone Start Per riattivare il gelbrack Quindi ci chiede ancora di bloccare il dispositivo Lo facciamo premendo il tasto Power E notiamo che in molto meno tempo rispetto a prima Ci arriva una notifica molto simile a quella iniziale Che ci avverte che il gelbrack è stato ripristinato Quindi seguiranno uno o due respring Voi lasciatelo lavorare E una volta configurato vi ritroverete nell'ambiente nuovamente gelbroken Infatti ecco Cylinder che torna a funzionare E Cydia che si apre senza problemi C'è da fare un'ultima premessa importantissima Come anche specificato dallo stesso Pangu Team Questo gelbrack è come se scadesse dopo 7 giorni Mi spiego meglio Una volta passata una settimana In alcuni casi non sarete più in grado di aprire l'applicazione di Pangu Per riattivare il gelbrack In questo caso ovviamente mi si apre perché sono passati pochi secondi Se a voi dopo 7 giorni non dovesse più aprirsi E quindi non riuscireste più a riattivare il gelbrack Per risolvere basterà cancellarla Senza timore la cancellate come una normalissima applicazione di App Store E dovrete reinstallarla tramite il processo di Cydia Impactor Quindi esattamente come vi ho fatto vedere prima Collegate il dispositivo al computer Trascinate l'IPA al suo interno Fate l'accesso con il vostro ID Apple E la installate Esattamente come la prima volta Quindi vi verrà reinstallata Come in questo caso è appena successo La autorizzate ancora andando in impostazioni Generali Gestione dispositivo o profili E autorizzate la vostra mail E quindi sarete in grado di aprirla nuovamente Per i prossimi 7 giorni e così via Purtroppo c'è questa rottura di scatole Che ogni settimana dovrete reinstallarla Molto probabilmente Altrimenti non vi funzionerà Perfetto ragazzi Quindi direi che il jailbreak è completo Ora a jailbreak finito Come promesso potete tornare in impostazioni Codice E come prima cosa è riattivare il vostro blocco con codice Se volete Perché la sicurezza del dispositivo è importante E poi se volete potete andare anche in impostazioni Generali Blocco automatico E reimpostarlo su 1-2 minuti 30 secondi Quello che volete Quindi ragazzi io spero che questa guida Ho tentato di farla il più completa possibile Sul jailbreak Di iOS 9.2 e 9.3 E tutte le loro sottoversioni Vi sia piaciuta Se è così fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente molto felice Seguitemi su tutti i miei social network I link come sempre li trovate Qua sotto in descrizione Se volete aiutermi a crescere Potete tranquillamente Condividere questo video dove volete Ma soprattutto ragazzi La cosa più importante Iscrivetevi al mio canale E noi ci rivediamo In un prossimo video Grazie a tutti i miei sociali